Buongiorno e ben ritrovati con il telegiornale di Canale 81 Lazio, vediamo le ultime notizie a partire da un sequestro della Guardia di Finanza operato a Latino, un sequestro di 16 milioni di euro perché tre persone sono state denunciate per il reato di bancarotta fraudolenta appunto dalle fiamme gialle, i tre erano nello specifico amministratori di fatto e di diritto di una società oggetto di indagine appunto della finanza, sarebbero oltre 16 milioni di euro che la società sottratto al fisco da parte della stessa impresa appunto e che opera nel settore del commercio all'ingrosso di carni, l'operazione è stata condotta come detto dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Latina. A Roma un uomo di origini stranieri ha preso a calci la porta di un tram mandando in frantumi il vetro e ferendo di conseguenza una ragazza, i fatti sono accaduti nella capitale come detto nel pomeriggio di ieri martedì 21 novembre in piazza Gioacchino Belli, la ragazza è stata ferita al polpaccio restata medicata sul posto dal personale delle 118 e ha preferito non andare in ospedale. I carabinieri sono alla ricerca dell'uomo. Restaring per il Tre Fontane, l'impianto sportivo dell'euro è stato adeguato alle normative UEFA e così potrà ospitare anche le partite della Women Champions League dove è impegnata la Roma femminile. La formazione giallorossa gioca e giocava lì le proprie partite di campionato e da quest'anno disputerà il Tre Fontane anche quelle europee, a partire dalla sfida di stasera contro l'Ajax. Sono stati installati circa 3.000 sediolini rimuovibili per il pubblico sulle tribune, ben 4 torri fari alte 30 metri con il campo che sarà illuminato da 78 proiettori LED. Sempre in ambito di strutture sportive, ieri c'è stato un ulteriore passo avanti per la riapertura del palazzetto Coni di Frosinone. Il Consiglio Comunale della città Ciociara ha dato il via libera infatti all'ordine del giorno con 21 voti favorevoli e che ha l'obiettivo di riqualificare la struttura. Lo stesso ordine del giorno contiene lo schema di accordo della Regione Lazio Sport e Salute che è proprietaria della struttura. Per la ristrutturazione invece saranno spesi 543.000 euro di fondi regionali. Ci potrebbero essere presto novità sul futuro dello stabilimento Stellantis in provincia di Frosinone. Il tavolo che dovrebbe tracciare il futuro dei lavoratori dello stesso si insedierà il prossimo 6 dicembre presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Allo stesso parteciperanno anche l'azienda, la Regione, i sindacati e Anfia. Con questa notizia guidiamo i telegiornali di Canale 81 Lazio. Vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamente ai prossimi notiziari. Grazie a tutti.